Ok, direzione Frari Dobbiamo mettere in atto questo salto ascensionale che abbiamo appreso Peccato che negli Assassin's Creed successivi, tolto Brotherhood e Revelations, ovvero fin dove c'è Ezio Non sarà più applicabile Oh Non lo devi atterrare Devi fare così, devi scaraventare giù Oh brutto bastardo Tenete giù le mani Come scusa? Tenete giù cosa? Non ho capito io Tranquillo non sto cercando te Forse di là Ricordiamo ai cittadini che i lavori di ristrutturazione dei fonti dell'attività Eccoci Ai frari Come disse lei Salire sulle impalcature è divertente Ma come te la cavi all'aperto Beh sarà uguale no? Torno fra un atti Fra un atti Balzi rimbalzi Allora qua possiamo veramente Scalare ogni tipo di cosa Eh sei stronzo eh Quattro e quaranta Non mi ero mica accorto E non capire E non capire cosa succedere Ma adesso si risolve tutto ragazzi Non vi preoccupate Che poi questo salto si può applicare anche in altre situazioni Quindi è anche più comodo Qua abbiamo già fatto il rifugio templare Ma su non si può stare Ma su non si può stare Ma io non sono qui per te Ciao Non puoi Eccolo Fermatelo Adge scasciatu cazzo Scassatu cazzo Come dicono in una città molto famosa Adge scasciatu cazzo Perché scasci Va bene Hai rotto il cazzo Palesemente rotto il cazzo Vabbè adesso il gioco si fa abbastanza semplice Perché basta fare così E Come Diceva Rovazzi Andiamo a comandare Che brutta frase che è Proprio da bimbi minchia come frase Intanto sincronizziamo Il che è importantissimo Bruttina Venezia eh Allora Direi che non ho altro da insegnarti Informerò Antonio Porta a termine gli altri lavori Ci siamo quasi Allora a questo punto faccio anche l'altra Perché siamo durati pochissimo 2500 fiorini in saccoccia E ce ne torniamo indietro Per decreto del consiglio dei dieci E ci faremo una passeggiatina Intanto assoldiamo ancora cortigiane Perché mi serve quel trofeo Proprio Uffa Che ho fatto Ma non ho fatto niente Cioè si ho rubato Però ok Cioè vemente la cosa Cattivi siete Perché qualcuno Dovrebbe andare in giro così Questa settimana Praticamente regalo il mio lavoro Ma che ho fatto Perdonatemi vi prego Ehi Lo fate sembrare così facile Questi amici Date un'occhiata alla mia merce E valutate voi stessi Ce la puoi fare Ezio Ce la puoi fare Madonna che palle Le meccaniche ogni tanto Non sono noiose Strappa vai Avete perso il senno forse Eh Lo fate sembrare così facile Se qui ci si possa nascondere Sono vostro Divertitevi No a me non rompete il cazzo Ok l'obiettivo porseggio Lo andrò a fare A Firenze Che almeno lì Non Ho problemi di Famigerazione I livelli vari Anche perché sennò si moriva Quindi Emilio mi ha messo contro Alcuni dei miei stessi uomini Corruzione e intimidazione Sì E non possiamo colpire Finché sono tra noi Sono ancora in giro Per il sestiere A tenerci d'occhio Per poi riferire ad Emilio Non ancora per molto Sta certo I panni sporchi Uccidiamo i tre traditori Ma Ezio Fuck Armiamoci Di lama Non l'animale E andiamo a vedere Chi sono queste persone Che meritano la morte Il problema è proprio Individuarle Perché farle fuori Non sarebbe neanche un problema Infatti Lo sapevo che era lì Raggiù Addosso Presto lo sto perdendo Eccolo Prendetelo Ok Si sta facendo Un po' antipatica La situazione Quindi Per me Si può fare così Ciao Uno su tre andato A male estremi Beve rimedi Magari Un bel birrozzo Ci starebbe adesso Vediamo qual'è Quello più vicino Tra l'altro vi rammento Che tra poco Dovremmo anche Prendere La Come si chiama La pistola Questa la vaga Impressione Che possa essere Sui tetti Lo sapete E potrebbe essere lui Infatti Boom Più facile di così Non ho picchiato nessuno Mi sono solo scalaventati giù Bellissimo Giù subito Giù subito Giù Ora Laggiù Cosa Corna su Lo sto perdendo Laggiù Prendetelo Ma non lo devi a terrore Giù le mani Non puoi stare qua su Eccolo Fermatelo Tranquillo Prenderemo Tetti risparmio Mi stai più simpatico Praticamente il problema È raggiungerli E individuarli Sono con voi Adesso non più Non è morto? Eccolo là Fantastico Fu un ambolo Auditore Sono con te Fratello Giù anche te Ok Ok il terzo Mi sa che a terra Cazzo No No Colpite Ecco Ricordate cosa vi ho insegnato Uomini Ora Veritelo Provrà a prendere dei rischi Colpiremo allora Boom Basta con ste frecce Basta con ste frecce Vieni che ti prendo un po' per il culo Vieni Vieni qua Lasciatemi subito Ti faccio fare un bel bagnetto Vai Ok sono Abbastanza famigerato Quindi devo Il signore è il mio pastore Il signore è il mio pastore Col suo cane No Non si può dire Anzi qualcuno disse Non lo posso dire Ecco Mi trovo nella stessa situazione Oh sa combattere Boom Dritto Nel coppino Attaccami 2500 fiorini E ciao Ci mancava anche il menestrello adesso